ciao sono william bisacchi di blog bisacchi.it oggi voglio farti vedere un prodotto innovativo molto resistente molto termico e molto facile da pulire abbiamo un prodotto con l'esterno in alluminio l'interno in legno lamellare quindi di fuori molto resistente e zero manutenzione l'interno legno lamellare molto molto isolante dal punto di vista termico acustico ma anche molto stabile meccanicamente e all'interno c'è questo rivestimento adatta tecnologia in un materiale materico molto molto resistente ai graffi alle abrasioni e prodotti chimici quindi lo puoi lavare e pulire un po come ti pare e mantiene il taglio così 90 gradi del legno quindi molto molto bello bello alla vista da allontato disponibile in tante colorazioni e un materiale che sta avendo molto successo nel mondo delle cucine soprattutto con nomi di altissima qualità come boffi come polifor e come varena e oggi lo puoi avere anche abbinato agli infissi potresti trovare anche il tipo di rivestimento identico a quello della cucina per poter abbinare il serramento ai tuoi mobili quindi alluminio grandissima resistenza e grandissima personalizzazione sul lato esterno dentro indistruttibile puoi fare quello che vuoi tuo figlio ci può scrivere con la matita e tu cancelli all'interno il legno lamellare molto termico molto resistente poi vetro doppio vetro triplo a secondo dell'isolamento come ottenere per questo puoi guardare i miei video e leggere i miei articoli e soprattutto posa a regola d'arte con asti di terreno espandenti con trottelare del tipo termico con quarto lato con barriera vapore guarda tutti i video e non sbagliare ci vediamo prossimo video ciao